0 Totti Dietro ancora per Pjanic c'è l'inserimento di Greco La mela La mela al limite, il cross in mezzo, ancora Totti! Totti sono a 211 adesso Nessuno ha fatto meglio di lui in Serie A con la stessa maglia 2 a 0 in 8 minuti, la doppietta di Totti Posizione di Totti, leggermente di fuori gioco Fori gioco, fori gioco